Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi faccio vedere 16 idee di titoli super estetic che potete usare sui vostri appunti. Sono molto semplici da fare e richiedono pochissima cancelleria. Andiamo subito a vedere che prodotti ho usato. La cosa che si nota subito in questi titoli sono i colori. Infatti io ne ho usati due diversi come ad esempio questo lilla e questo rosa della Stabilo Swinkle. Consiglio gli evidenziatori perché sono molto semplici da usare. E ovviamente voi potete usare qualsiasi colore vi piaccia o ancora meglio qualsiasi colore che sia a tema con gli appunti che state facendo. Quindi per iniziare scegliete due colori diversi di evidenziatore. Poi andremo ad utilizzare questa brush pen nera solo che nel mio caso sto utilizzando una a punta molto piccola perché vi sto facendo degli esempi. Però quando farete gli appunti vi consiglio di utilizzare delle brush pen a punta più grande. Vi consiglio tipo queste della Stabilo che hanno la punta nettamente più grande. E come ultima cosa andremo ad utilizzare una penna a gel con la punta molto spessa. Questa ad esempio è una Bic Gelosity 0.7 a inchiostro nero che è veramente scorrevole e a me piace molto come penna quindi ve la consiglio. Ora direi proprio di iniziare. Per il primo titolo vado a fare una semplice linea ondulata con l'evidenziatore per poi scrivere il titolo in piccolino con la penna. Per il secondo inizio a scrivere il titolo con la brush pen e aggiungo semplicemente due linee agli estremi. Per il terzo scriviamo sempre il titolo in lettering e aggiungo quattro linee usando entrambi gli evidenziatori. Per il quarto faccio due linee usando entrambi i colori per poi scriverci il titolo in lettering sopra. Per il quinto scrivo con la penna il titolo in stampatello e aggiungo delle ondine agli estremi. Per il sesto faccio due linee con entrambi i colori e poi scrivo il titolo in lettering. Il settimo lo trovo ancora più carino. Andiamo a fare dei quadratini con entrambi gli evidenziatori alternati. Vi consiglio di contare le lettere del titolo che andrete a scrivere per agevolarvi e non sbagliare e poi all'interno andate a scrivere in maiuscolo con la penna. Per l'ottavo andate a scrivere il titolo in lettering e questa volta aggiungo le ondine doppie. Per il nonno titolo andiamo a fare una linea con l'evidenziatore e poi scriviamo con la penna il titolo che diciamo viene tagliato da questa linea. Nel decimo andiamo a fare una specie di riquadro e poi aggiungiamo due linee con l'altro colore e al centro scriviamo il titolo in lettering. L'undicesimo è molto basic, basterà fare una linea ondulata e poi potete scrivere il titolo come volete, io l'ho scritto in minuscolo in questo caso. Il titolo andiamo a scrivere il titolo con la penna in maiuscolo e aggiungete una linea con la penna sopra e sotto. Per il tredicesimo andiamo a fare una linea larga e due linee sottili sotto per poi scriverci il titolo in lettering. Il quattordicesimo titolo è molto simile al settimo, infatti al posto dei quadratini andiamo a fare dei cerchi e all'interno ovviamente andiamo a scrivere le lettere del titolo. Per il penultimo titolo andiamo a scrivere il lettering per poi tracciare il contorno con entrambi i colori, io prima ho fatto il colore più scuro e poi quello più chiaro. E invece nell'ultimo titolo andiamo a scrivere il lettering per poi scegliere uno dei due colori e tracciare tantissimi cerchi attorno alla scritta e poi con la penna aggiungete un paio di scintille a destra e a sinistra. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti qual è il vostro titolo preferito tra tutti i 16 che ho fatto. Ci vediamo alla prossima, ciao!